Quello che volevo dirvi alla fine è di non aver paura. È vero che tipo a Rovigo stanno chiamando l'esercito di Putin per essere più tranquilli e sicuri, ma qua a Ferrara possiamo essere ancora più tranquilli e sicuri perché noi abbiamo Mayalik, il vero supereroe ferrarese. Al momento Mayalik lo potete trovare online, ma a partire da gennaio sarà disponibile anche la versione Deluxe, un po' più grande di questa, come trovate, tutta rilegata per bene e fighissima. Se volete informazioni basta digitare Mayalik su Google che vi lascia aperte mille porte che potete capire dove trovarlo. Mayalik.